Ancora un incidente mortale in un'arteria che per Arezzo è fin troppo nota alle cronache. Si tratta della strada statale 73, la senese Arettina, che collega il comune di Arezzo a quello di Civitella in Val di Chiana. Qui alle 16.50 circa ha perso la vita un Arettino di 45 anni. L'uomo in sella alla sua moto stava percorrendo la statale in un'ora di punta per il traffico provinciale. Forse stava rientrando da una giornata di lavoro, ma purtroppo questo 45enne non tornerà mai più a casa. Si è violentemente scontrato con un'auto monovolume all'altezza del bivio per il centro equestre. I sanitari giunti sul posto hanno potuto solo accertare la morte dell'uomo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani per ricostruire la dinamica. Pesanti le ripercussioni per il traffico in merito è anche intervenuta ANAS con una nota nella quale comunica che la statale è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni, con deviazione dei veicoli in transito nella viabilità alternativa.